Le donne? Le donne sono tutte pazze, le donne sono troppo emotive, sono impulsive e incoerenti, le donne sono opportuniste e diciamoci la verità sono anche un po' zoccolette. E vabbè, infine le donne rompono le scatole e tu ti starai chiedendo come mai i casi umani li trovo tutti io? Bene, allora in questo video risponderò a tutte queste domande in modo dettagliato e preciso, in modo da farti fare un insight profondo e capire un po' meglio la situazione. Premetto, non è un video che dà ragione alle donne, è solo un video che, per gli uomini intelligenti e che vogliono capire meglio il mondo femminile, potrà essere di grande aiuto. Nell'introduzione ho parlato di uomini intelligenti. Spero che tu sia una persona intelligente e quindi che abbia la voglia e la pazienza di andare in fondo a questo lungo video per capire meglio delle sfaccettature che magari ti sfuggono. È normale perché magari sei un uomo e non conosci bene il mondo femminile e il modo di pensare delle donne. In questo video, inoltre, mi rivolgo a quegli uomini che sono anche arrabbiati perché non trovano l'amore, anche se magari sono brave persone, buone, oneste, dolci e gentili. Probabilmente potresti essere anche tu fra quegli uomini che si lamentano che le donne lo schifino, lo usino, lo trattino male e si approfittino di lui e che poi vadano chiaramente da quelli fighi, ricchi e prestigiosi che poi le trattano chiaramente male. Bene, se sei fra questi uomini anche tu, questo video ti sarà tanto, tanto utile per diventare una persona un po' più comprensiva e consapevole. Non voglio giustificare le donne, ma solo spiegarti meglio come funzionano. Se non mi conosci, mi presento. Sono Daniela Coen. Sono un'educatrice professionista specializzata nella crescita personale e relazionale maschile. Quindi aiuto gli uomini a stare meglio con se stessi e di conseguenza ad avere relazioni più belle e più sane con le donne. Il primo step per capire cosa sta succedendo è quello di smettere di lamentarti. Che poi in realtà a cosa serve lamentarsi? Vorrei capire se lamentarti ti ha mai almeno una sola volta in vita tua, fatto ottenere quello che volevi. Penso di no. In realtà la lamentela, te lo dico per tua utilità personale, serve solo a farti sentire meno solo. Perché magari quando trovi qualche altra persona in real o sui social che ti dà retta e condivide la tua mala sorte e ti dice poverino, sì hai ragione, è capitato anche a me, bla bla bla, tu ti senti un pochettino meglio. E in più la lamentela serve anche a de-responsabilizzarti. Ma di questo poi parliamo meglio. Dunque, rispondiamo alla prima domanda. Le donne sono tutte pazze? La risposta è sì e no. Dipende da cosa intendi col termine pazze. Se tu intendi delle donne che soffrono di disturbi mentali diagnosticati da uno psichiatra, allora la risposta è chiaramente no. Non tutte le donne soffrono di disturbi psichiatrici. Sono proprio poche poche. Non solo perché non si sono fatte diagnosticare il disturbo, come potresti sperare, ma proprio perché per dire che qualcuno abbia una pazzia, cioè che sia un malato di mente, una persona psichiatrica, occorre che questa persona manifesti dei comportamenti estremi e gravemente dannosi per sé e per gli altri. E il fatto che una persona alzi la voce, tradisca, cambi idea, non ti risponda ai messaggi, non ti voglia più con sé, non la rende una persona psichiatrica. Se no saremo tutti in psichiatria, no? E per strada avremo solo probabilmente i cani. Quindi il fatto che una persona non faccia quello che vuoi tu non la rende automaticamente una persona pazza. E il fatto che faccia delle cose che tu pensi che non dovrebbe fare non la rende pazza. E il fatto che decida delle cose che secondo lei sono buone e secondo te non lo sono, non la rende pazza. Che una persona ti lasci, non ti voglia, ti menta o ti tradisca, può renderla sicuramente poco chiara, poco decisa, poco onesta, anzi diciamo anche disonesta in certi casi, ma sicuramente non la rende pazza. Io ho sentito uomini chiamare pazze le donne per i più disparati motivi e quasi mai queste donne erano davvero pazze o avevano fatto davvero qualcosa di grave per meritarsi questo appellativo. Quindi rifletti su questo. La seconda domanda alla quale andremo a rispondere è le donne sono troppo emotive? Sono troppo impulsive e incoerenti? Anche qui la risposta è sì e no. Dobbiamo chiarire degli aspetti e significati. Se no ci confondiamo. Gli uomini amano definire le donne troppo emotive oppure dicono le donne sono emotive, volubili e invece noi uomini siamo razionali e lo dicono come se fosse un pregio, cioè un vantaggio. Ma cadono anche qui in un errore di valutazione. Il fatto che una persona sia emotiva non la rende assolutamente sbagliata o problematica o meno giusta. Anzi, sapere ascoltare le proprie emozioni è indispensabile per crescere ed evolvere e le persone che non lo fanno tipo gli uomini che magari spesso reprimono le emozioni in favore del ragionamento logico si fanno un grave danno. Quindi il fatto che le donne siano a contatto con le proprie emozioni e le esprimano non può essere il problema. Il problema si presenta quando la donna sente le emozioni e le esterna nel modo sbagliato perché non sono state comprese, trattate e sentite nel modo corretto e quindi conducono la persona che le prova ad esplodere all'improvviso generando un danno a sé e agli altri. Quindi il semplice esprimere le emozioni anche piangere, strillare essere triste, arrabbiate gelose o agitate non è assolutamente un problema o un errore. Il problema è che le persone sono cresciute tutte in una società che è incapace di validare correttamente le emozioni che svaluta e considera sbagliate le persone che esprimono il loro stato d'animo ma in realtà una persona che sia un minimo intelligente può accorgersi facilmente che la persona in questo caso la donna che esprime emozioni in modo turbolento probabilmente lo fa perché per troppo tempo le ha trattenute e ha la necessità di esternarle e non lo sa fare in un modo funzionale quindi lo fa come è capace esasperandole. Non sto dicendo che sia corretto ovviamente è un atteggiamento che va sistemato perché se diventa disfunzionale per la donna e per il compagno o le persone che ha vicino ovviamente dobbiamo intervenire però il fatto di provare le emozioni anche in modo forte di per sé non è un problema. Allora tu potresti dire sì però Daniela piangere, urlare, strillare, fare casino, esagerare le emozioni è sbagliato, non è sbagliato piangere, urlare di per sé ma è sbagliato piangere e urlare scaricando i nostri problemi addosso agli altri incolpandoli, trattandoli male e insultandoli. Questo sì che è sbagliato. Quindi di per sé se una donna piange perché vuole sfogarsi o si mette a urlare per conto suo non è sbagliato lo può fare anzi fa anche bene ci sono terapie che consigliano addirittura di farlo quello che è sbagliato è che scarichi le sue frustrazioni addosso a te prendendoti come capro espiatorio. Noi non abbiamo una cultura che ci insegna ad esprimere bene le emozioni quindi non siamo capaci e non sappiamo come comportarci quando magari ci sentiamo tristi, offesi e osteggiati ci teniamo tutto dentro e poi esplodiamo gli uomini in questo sono maestri se consideriamo sbagliate certe emozioni e le reprimiamo poi accumuliamo e prima o poi esplodiamo gli uomini spesso reprimono perché a parte la rabbia le altre emozioni non le possono mostrare per non sembrare deboli ti dicono se piangi sei una checca se sei triste hai qualcosa che non va e devi andare in terapia mentre le donne le reprimono perché sanno che gli uomini non le tollerano e quindi cercano di nasconderle a volte le donne enfatizzano certe emozioni proprio nella speranza che l'uomo le accolga cioè le veda le validi e le accolga anziché additarle come pazze isteriche e per lo più questo comportamento è inconscio quindi non lo fanno oppositamente però esiste se tu pensi che le donne siano più pazze degli uomini perché esprimono di più le emozioni sei un po' fuori strada devi sapere che uomini e donne sbroccano impazziscono allo stesso modo o con la stessa frequenza e quelli che non sbroccano così spesso quando si sfogano diventano addirittura pericolosi le persone che trattengono troppo le emozioni e per troppo tempo quando poi esplodono esplodono pesantemente si dice infatti l'avrei sentito dire che non ci sia più cattivo di un buono quando si arrabbia e in realtà quello che io penso è che in realtà un po' siamo tutti in egual misura danneggiati uomini e donne solo che chi esplode in modo plateale stava reprimendo troppo e da troppo tempo una persona che esprime le proprie emozioni in modo non disfunzionale è una persona sana ovviamente se esprimendo le proprie emozioni genera un danno oggettivo agli altri e rifiuta chiaramente anche di ridimensionarsi il compito nostro che siamo vicini a queste persone è quello di allontanarle non dobbiamo tenerci accanto persone che utilizzano dei comportamenti o un modo di comunicare altamente disfunzionale ok quindi non sto dicendo la donna può sbroccare e tu devi stare lì perché poverina non hai imparato a esprimere bene le emozioni è giusto è giusto che tu e anche le altre persone che conosci stiate lontani da persone che diventano effettivamente dannose e le donne devono fare lo stesso quindi guardati anche un po' dentro e cerca di capire se anche tu sei una di quelle persone che magari quando si arrabbia diventa pericolosa o esagera comunque la mia opinione è che è meglio una persona inconsapevole che esterna le emozioni incontrollato senza fare danni grossi piuttosto che una persona che trattiene sistematicamente le emozioni perché la prima quella che esterna anche male può conoscersi se lo desidera ma la seconda che non esprime quello che sente non può sapere chi è se non fa emergere le proprie emozioni vediamo adesso la parte sulle donne incoerenti spesso sento dire le donne non sanno quello che vogliono sono incoerenti dicono una cosa e ne fanno un'altra se avessi un euro per tutte le volte che ho sentito sta frase adesso sarei in un castello medioevale in Scozia e invece no sono qua a spiegarvi queste cose quindi svegliamo anche questo mistero ripeti insieme a me le persone incoerenti sono tendenzialmente più intelligenti e profonde delle altre e tu dirai che cacchio stai dicendo ti spiego cambiare idea è normale lo facciamo tutti lo fai anche tu cambiare idea è segno di intelligenza perché una persona valuta pensa e prende decisioni anche diverse da quelle prese in precedenza significa sapersi ascoltare e sentire ciò che ci fa bene e non ci fa bene le persone decidono sempre per il proprio bene o meglio per quello che credono tale quindi noi dobbiamo cercare di sforzarci e comprendere che ogni persona fa del suo meglio e noi per questo non possiamo biasimarle quindi una persona ha tutto il diritto di cambiare idea e non dirmi frasi tipo eh sì ma cambia idea da un giorno all'altro è una cazzata sento spesso dire ha cambiato idea all'improvviso certo tutte le persone cambiano idea all'improvviso c'è il giorno in cui magari hai sempre fumato e poi hai deciso di non fumare più c'è il giorno in cui hai deciso di non mangiare più un certo alimento perché ti faceva male il giorno prima lo mangiavi il giorno dopo no così come c'è un giorno in cui ancora ti va di stare con quella persona e poi arriva il giorno in cui non ti va più di stare con quella persona è segno di intelligenza e tu dirai sì Daniela ma quelle che fanno il tira e molla come la mettiamo? sì ci sono donne anche uomini ma più donne questo lo ammette che vanno e vengono oggi ti amano e domani non ti amano e dopo domani ti amano ancora perché succede questo? anche questa manifestazione è sintomo di incapacità di sapersi ascoltare di sapere cosa si vuole davvero e spesso le donne sono divise fra ragione e sentimento fra quello che sentono di voler fare e il dubbio e il dubbio razionale che il proprio sentire sia sbagliato sono divise tra pensiero razionale che dice che quella cosa è logica conveniente e giusta e il proprio sentire profondo che dice che non fa per loro e chi ha ragione? ovviamente non c'è una regola però in linea di massima ciò che noi sentiamo dovrebbe avere la priorità su quello che ci appare logico e conveniente specie in ambito sentimentale quindi sì le donne fanno tira e molla e non è corretto ma lo fanno perché sono esse stesse per prima in sofferenza stanno male non sono serene non hanno capito chi deve vincere fra la ragione e il sentire ti faccio un esempio che puoi capire se per esempio il tuo sentire ti dice che non vuoi più lavorare in ufficio però la tua ragione ti dice che ti servono i soldi per pagare l'affitto o comprare le scatolette al gatto e in questo caso la ragione ti dice per un po' resta lavorare in ufficio in questi casi è giusto ascoltare la ragione però iniziare a pensare a un piano per accontentare il tuo sentire ma se il tuo sentire ti dice che devi lasciare la tua compagna e la tua ragione ti dice non lo fare perché sei un cesso e non troverai un'altra che ti vorrà allora in questo caso è bene lavorare sul risolvere le paure prima di prendere la decisione di chiudere e lo stesso vale anche per le donne quindi se vedi la donna che va e viene fa il tiro e molla sappi che sicuramente è divisa fra ragione e sentire e quindi sicuramente potrai capire meglio cosa sta succedendo non significa che tu la debba secondare assolutamente ma almeno hai capito oh veniamo alla mia frase preferita i casi umani Daniela li trovo tutti io a parte che mi sono sempre chiesta cosa vuol dire caso umano stiamo parlando di persone che hanno problemi di varia natura allo stesso modo in cui li hai tu magari sono problemi diversi dai tuoi o magari sono simili e tu non te ne rendi conto quindi facciamoci un piacere e partiamo da un presupposto che ha a che fare con la legge di risonanza la legge di risonanza dice che pensieri emozioni e intenzioni di una persona possono influenzare la realtà circostante è una legge esoterica non scientifica ma di crescita personale dice che noi possiamo attrarre esperienze o oggetti che sono simili a noi e quindi se attiri casi umani e ci hai a che fare molto probabilmente anche tu sei un caso umano il solo fatto di attirare un caso umano di per sé potrebbe anche non provare questa legge di risonanza perché le persone che amminano possono avvicinarsi a te anche se magari non sei un caso umano come loro ma il fatto che tu in qualche modo ti agganci a queste persone e quindi magari queste donne le trovi interessanti almeno all'inizio tanto da scriverti o uscirci beh di fatto ti rende parte di questo processo di risonanza e ti fa risultare una persona che risuona con quella donna che tu chiami caso umano e tu direi sì vabbè ma io all'inizio mica lo sapevo lei non si è mostrata per com'era ma non importa perché il tuo inconscio lo sa molto bene con chi ti stai mettendo a chi ti stai avvicinando quindi se ti sei avvicinato a quella persona c'è un motivo anche se razionalmente non sai qual è e se tu fossi così diverso da lei per quale motivo dovresti esserne attratto magari lei ti si avvicinerebbe e tu senza neanche farci caso la scanseresti ma non lo fai semplicemente perché siete simili o comunque ci sono delle dinamiche proiettive in atto magari lei ha delle caratteristiche che ti piacciono molto anche se magari ti creano delle difficoltà magari lei potrebbe essere molto indipendente tu magari ti senti poco indipendente e vuoi acquisire quel tratto di indipendenza quindi sei attratto da quel tipo di donna fatto sta che comunque anche se non lo vedi e non te ne accorgi siete sicuramente più simili di quanto tu creda perché se non lo foste sicuramente non saresti rimasto attratto così tanto da lei e passiamo alla parte delle donne opportuniste le donne sono opportuniste e per raggiungere i propri scopi sono anche un po' zoccole bene allora ti faccio una domanda secondo te una donna può essere opportunista senza che tu compartecipi a questo scambio? ovviamente no se una donna si prende qualcosa da te e tu glielo permetti significa che anche tu stai prendendo qualcosa da lei o speri di poterti prendere qualcosa lo vedi te ne rendi conto si lei fa la zoccoletta perché sa che quel sistema è quello che normalmente le dà più risultati la donna lo sa che l'uomo scambia favori e denaro con il sesso o con l'affetto non è scema quindi se lei è una persona inconsapevole non stupida ma inconsapevole e non sa badare a se stessa non è autonoma è indipendente è responsabile cosa fa? prende quello che le serve dagli altri sicuramente è una donna che ha delle difficoltà e dei problemi però analizziamo da chi va da chi va a prendersi queste cose? prende da chi è propenso allo scambio su quel piano quindi lei offre sesso sensualità attenzioni erotismo affetto e scambia questi favori con degli aiuti sul piano pratico come ad esempio denaro lavoretti domestici passaggi in auto e altre incombenze che da sola non sa o non vuole gestire però ti rendi conto adesso che tu hai lo stesso livello di opportunismo anche se diverso che a lei e ti rendi conto che paradossalmente le donne fanno le zoccolette opportuniste perché sanno che c'è richiesta e che sicuramente troveranno uomini disposti a fare questo trading se tu non sei fra questi perché ti preoccupi di queste donne? se invece queste donne ti hanno circuito ti hanno imbrogliato si sono approfittate di te beh sappi che anche tu stavi facendo la stessa cosa stacce come dicono a Roma e infine perché le donne rompono le palle? le donne rompono le palle? sì rompono le palle ma ti sei mai chiesto come mai le donne stressano così tanto gli uomini? come mai sono così esigenti? perché spesso sono così frustrate e insoddisfatte? se non te lo sei mai chiesto te lo dico io ci sono tre motivi il primo motivo è che la donna ha un mindset orientato al miglioramento la teoria dell'attaccamento sviluppata da John Bowlby suggerisce che le figure di attaccamento primarie che sono spesso le madri siano profondamente coinvolte nel monitoraggio e regolazione dell'ambiente del bambino per assicurare la sicurezza e lo sviluppo sano e questo coinvolgimento si estende anche alle dinamiche familiari dove le donne si sentono responsabili del mantenimento di un ambiente familiare armonioso e funzionale quindi lo scopo è educativo il secondo motivo ha a che fare con la teoria della gestione delle risorse relazionali le donne sono spesso più coinvolte nella gestione e nella cura delle relazioni interpersonali e secondo questa teoria dei comportamenti che sono percepiti come critici o fastidiosi da parte delle donne sono in realtà dei tentativi di migliorare la comunicazione e l'armonia all'interno della coppia le donne possono essere infatti più inclini a segnalare problemi e chiedere cambiamenti perché sono più investite nel benessere relazionale rispetto agli uomini e questo anche per garantire la stabilità della relazione e il terzo motivo ha a che fare con la garanzia della stabilità della relazione come dicevo alla fine del punto 2 quindi essendo che la donna ha più necessità di avere una relazione stabile come garanzia cioè ha bisogno di stabilità per creare una famiglia con figli e una gestione sana delle risorse per questa ragione e anche e soprattutto perché storicamente le donne avevano un accesso limitato alle risorse economiche e alle opportunità lavorative hanno avuto bisogno di garantirsi la stabilità relazionale e quindi di fare andare bene il rapporto col proprio partner per avere delle risorse e questo le ha rese più controllanti e più orientate al miglioramento ovviamente non sto giustificando la donna che rompe le palle però sappiate che se una donna rompe le palle lo fa diciamo così inconsciamente per un bene comune desidera una relazione migliore una stabilità maggiore un rapporto duraturo qualcosa di concreto e infine veniamo al perché giudichi senza criterio non è sicuramente perché sei stupido ma se non sei stupido e se hai capito quello che ti ho spiegato fino ad adesso ti faccio una domanda secondo te come mai fino ad oggi non ti sei mai reso conto di giudicare in modo esageratamente negativo questi comportamenti che invece come avrei capito in fin dei conti sono abbastanza normali comuni e a volte anche sensati in realtà l'hai fatto per una questione di difesa e irresponsabilità la maggior parte degli uomini che pensa male delle donne e parla male di loro ha avuto molte brutte esperienze con le donne una o più senza tirare in ballo Jung e gli risolti col femminile l'archetipo materno anche se comunque ti consiglio di indagare questi aspetti con un terapeuta ti posso spiegare una cosa semplice e se non l'hai ancora capito da solo è giunto il momento che lo realizzi finché tu avrai una brutta idea delle donne finché avrai paura o disprezzo verso l'altro sesso sarà molto dura per te iniziare una relazione bella appagante le persone pensano di poter odiare e temere l'altro sesso lo fanno anche le donne ovviamente e sperare di trovare l'amore è una relazione appagante ma è una cosa totalmente folle e insensata perché finché starai sulla difensiva o finché considererai le donne delle nemiche in qualche modo anche a livello subconscio non potrai mai avere una relazione amorosa o amorevole e appagante è ovvio no? quindi se c'è questo odio diffuso anche a livello inconscio o subconscio questo forte giudizio verso le donne ti consiglio di assoldare un ottimo terapeuta e fare un po' di terapia possibilmente psicanalisi inoltre c'è la questione della deresponsabilizzazione che è una parola per me difficilissima da dire perché sono dislallica però l'ho detta dare la colpa all'esterno senza riconoscere la propria parte di responsabilità è comodo cioè se gli altri sono sbagliati noi siamo giusti stiamo meglio pensando che siano gli altri ad avere tutta la responsabilità e noi a sentirci paradossalmente delle vittime perché noi non vogliamo sembrare sporchi malati e cattivi è meglio puntare il dito sugli altri no se io sono vittima la colpa dell'altro io non mi devo prendere nessuna responsabilità posso passare la vita a dire che sono stato sfortunato che le donne sono tutte matte cattive zoccole opportuniste emotive e rabbiose e cercare quella che è la persona giusta perché qualche scemo in qualche reel ti avrà anche detto che esiste la persona giusta per te ma si è dimenticato di dirti che se tu non sei la persona giusta non troverai nessuna persona giusta spero che questo video ti abbia aiutato a chiarirti un po' di dubbi e soprattutto ad essere meno giudicante ad essere più comprensivo a odiare di meno e quindi ad avere un rapporto più sereno con le donne ti ricordo che fino al 31 agosto è a disposizione in super sconto il kit dell'approccio perfetto sia per approccio online che per approcci dal vivo trovi sempre il link qui sotto in descrizione ti lascio qui sopra due video che ti possono aiutare ad approfondire questi argomenti e qui al centro ti puoi iscriveri al canale se non sei già iscritto mi raccomando attiva la campanellina per non perdere le notifiche in descrizione qui sotto trovi anche il link per accedere al mio gruppo facebook e per rimanere informato su tutte le iniziative e le dirette da lunedì